Nel 2023 il numero di pagamenti effettuati con strumenti diversi dal contante a livello nazionale è cresciuto del 14%. Anche il numero di carte di credito attive si è attestato a 13 milioni, in leggero aumento rispetto al 2022. Inoltre il valore delle transazioni risulta in crescita del 7%. È quanto emerge dalla 22esima edizione dell'osservatorio Carte di Credito e Digital Payments, curato da Assofin, Ipsos e Nomisma con il contributo di CRIF. Significativo l'aumento del numero di operazioni con un incremento di quasi un milione di transazioni solo nell'ultimo anno. Un risultato favorito dall'accelerazione dei pagamenti cashless che rientrano nelle abitudini dei consumatori. Crescita doppia cifra anche per il valore delle transazioni effettuate. Gli italiani apprezzano sempre più gli strumenti di pagamento flessibili. Aumenta infatti il numero delle carte di credito attive che danno la possibilità di scegliere il tipo di rimborso, a saldo o a rate, con una quota sul totale che nel 2023 sale al 64%. Ha contribuito a tale tendenza la maggiore diffusione dell'e-commerce, come emerge dall'incidenza delle transazioni online, che nei primi sei mesi del 2024 si attesta al 28%.